La concentrazione del fenomeno cromatico al suo aspetto fisiologico da parte di Schopenhauer si accorda perfettamente con la sua filosofia e con quella kantiana, secondo la quale il soggetto è il correlato dell'oggetto, ed il mondo oggettivo esiste in quanto mette in moto l'apparato sensibile ed intellettivo del soggetto, con le sue categorie a priori. Schopenhauer ha considerato la causalità come la soggettivizzazione della materia e la materia come l'oggettivizzazione della causalità. Ciò gli ha permesso di correggere l'errore kantiano, di cui si è già parlato, errore che ha portato agli idealisti postumi e le loro aberrazioni, soprattutto a Hegel. Ora, mentre Goethe si è limitato all'analisi dell'aspetto oggettivo del colore, Schopenhauer ha fatto vedere che esso richiede soprattutto l'analisi dell'aspetto soggettivo, fisiologico, in quanto attività ed eccitazione della retina. Perciò la teoria schopenhaueriana è un approfondimento, un'integrazione e un compimento di quella Goetiana, un ritorno all'origine prima del colore, dove Goethe non è potuto giungere. Goethe è stato un poeta e non un filosofo, e tuttavia non volle ammettere la soluzione di Schopenhauer. Nel suo carteggio con il filosofo, concernente l'argomento, si mostrò evasivo, sfuggente. Si capisce però che il poeta aveva intuito la correttezza dell'analisi schopenhaueriana, ma non voleva riconoscerla, come è normale. Egli, in quanto maestro, non accettava che l'allievo lo avesse superato. Eppure Goethe stesso, dice nel Faust, Urfaust, entra il filosofo e vi dimostra che deve essere così per forza. Tuttavia, non si può escludere del tutto Goethe dalla filosofia e dal pensiero universale. La poesia è pensiero universale. Goethe, così come Leopardi, è stato per molti aspetti anche un filosofo, non teoretico però, ed è questo che si intende quando lo si valuta come poeta e non come filosofo a tutti gli effetti. La poesia e la filosofia sono sorelle, ma la matematica e la logica, indispensabili alla filosofia, sono cugine solo a questa. Evidentemente le due arti, pur partorite dalla stessa madre, sono figlie di padri diversi. Grazie a tutti.